buongiorno sono giovanni di giuseppe managing director di optimize group gruppo digitac e oggi vi parlerò di inbound marketing e seo e di come siano due leve fondamentali per scalare sui progetti digitali quando immaginiamo la digital transformation la immaginiamo come un percorso arduo una parete da scalare molto molto complicata dovuta poi a intersecarsi di temi diversi c'è un tema di cultura aziendale temi di competenze temi di organizzazione temi di prodotto che rendono questo shift al digitale per tante aziende molto molto difficile quale che sia il livello che si è raggiunto dato che molte aziende possono già aver fatto la trasformazione digitale molte altre magari la stanno affrontando per la prima volta quale che sia il livello raggiunto una certezza è che domani ci saranno sempre più player che lavorano sul digitale l'aumentare dei player nel mercato digitale ovviamente porta una media inflation cioè porta a una crescita dei costi di acquisizione per questo canale un fatto è che nel mercato digitale il costo del traffico è destinato a salire se guardiamo i dati dal 2005 ad oggi il costo del traffico è cresciuto del 171 per cento questo significa che sostanzialmente dobbiamo attrezzarci come ci attrezziamo ci attrezziamo sostanzialmente lavorando sui nostri canali i siti web quindi lavorando a renderli macchine sempre più efficienti e lavorando soprattutto con l'inbound marketing e insieme con processi di ottimizzazione continua che cos'è l'inbound marketing in due parole l'inbound marketing significa valorizzare gli assetti proprietari quindi valorizzare il proprio sito web e soprattutto lavorare per farsi trovare quindi soprattutto su tre canali la seo inteso come i motori di ricerca il canale organico l'email marketing e i social media quindi riuscire a farsi trovare è fondamentalmente lavorare su queste tre leve ad oggi numerosi player di banking ed insurans sono ancora indietro in termini di performance digitali sappiamo che il 54 per cento dei siti del settore non è seo compliance sono ancora raggiunti il livello minimo di ottimizzazione per i motori di ricerca che serve appunto a farsi trovare sappiamo che oltre l'ottanta per cento di questi siti non ha oggi delle pratiche di cro quindi di conversion rate ottimizzazione non sta attuando processi di ottimizzazione delle conversioni quindi per ottenere conversioni a un costo migliore in un'agenzia specializzata come optimize group ovviamente abbiamo un punto di vista privilegiato sull'evoluzione digitale anche cross industry quindi riusciamo a vedere industry diverse quanto velocemente si muovono e quali tattiche e strategie mettono in campo per riuscire meglio nelle performance digitali della del mercato insulans sappiamo che la chiave del successo è sintetizzabile in cinque punti in cinque aspetti soprattutto se guardiamo alla seo quindi alla parte di posizionamento organico del motore di ricerca possiamo fare una sintesi molto molto rapida è un mercato guidato per lo più dal prezzo ergo si deve puntare su parole chiave di mercato non tanto di brand ma di mercato che permettano una sostenibilità nel lungo periodo si compete su poche chiavi di ricerca che garantiscono alti ritorni si compete attraverso poche pagine di prodotto che non sono differenzianti molto spesso da un brand a un altro e bisogna lavorare di sinergia organico paid quindi motori di ricerca a pagamento motori di ricerca posizionamento organico per evitare di andare su azionare le stesse leve andare due volte sullo stesso pubblico e lavorare tanto di deduplica infine bisogna disegnare ragionare con disegnare nuovi percorsi per gli utenti percorsi che siano efficaci ed efficienti che riescano a permettere di non avere attriti nella parte proprio di conversione questo sono i cinque aspetti che fanno la differenza soprattutto quest'ultimo è molto importante nel momento in cui parliamo di percorsi degli utenti e di fare la differenza sulla canalizzazione su un funnel che non fornisca attriti capiamo che bisogna ottimizzare molto il sito web il web è spesso guidato da scelte soggettive il che significa che non sempre le scelte di design di usabilità anche di posizionamento e di comunicazione che si fanno all'interno del sito web sono ragionate in termini di efficacia ed efficienza pratica poi orientata alla conversione bisogna lavorare su un approccio unico e che sia realmente data driven quello che facciamo in agenzia e lavorare su questi due aspetti soprattutto lo facciamo a tutti i livelli partiamo da scoprire quali sono dare informazioni su sul consumatore quindi i consumer insight a partire proprio da ricerche che vengono fatte sul sugli utenti quindi prove sugli utenti esperimenti ma soprattutto si fa anche col consiglio degli esperti e si fa anche algoritmicamente quindi applicando logiche di machine learning e di studio anche algoritmico a cose che sono legate all'esperienza utente a tutti gli aspetti legati all'esperienza utente questa sperimentazione continua è una delle chiavi del successo sappiamo che bezos quando parla del successo di amazon fa la lettera agli azionisti dice siamo i più grandi esperti nel fallimento il fatto di continuare a sperimentare fallire ci ha garantito quell'esperienza e quell'innovazione che oggi riusciamo a mettere in campo è quella che potremmo chiamare la legge di taleb di fatto sappiamo che tanti esperimenti continui la somma degli esperimenti continui falliti comunque viene più che ricompensata dall'esperimento che riesce dalla dagli insight che riusciamo a ricavare nel momento in cui scopriamo qualcosa di nuovo sui nostri consumatori la sperimentazione continua non è una prerogativa di alcune aziende a scapito di altre è una prerogativa che dovrebbero avere tutti che tutte le aziende che fanno innovazione che comunque tendono a migliorare i loro processi di acquisizione di clienti e di retention debbono inevitabilmente fare lo abbiamo visto all'inizio il mercato tende a far crescere i costi per non fare lievitare i costi dobbiamo ottimizzare i processi per questo crediamo che la cro sia una delle chiavi oggi tantissime grandi aziende fanno cro quindi conversion rate ottimization ed esperimenti continui procter & gamble ne fa circa dai 7 ai 10 mila all'anno all'incirca stimato google ne fa oltre 7 mila somministrando ai propri utenti e ai propri consumatori consumatori di prodotti versioni differenti del prodotto delle soluzioni anche dei risultati di ricerca se parliamo del motore di ricerca amazon ne fa circa 2000 netflix ne fa mille ecco se volessimo portarci a casa uno degli aspetti salienti anche della digital transformation di tutto quello che si porta dietro la digital transformation è il bisogno di somministrare esperimenti continui il bisogno di provare versioni diverse e continuare a studiare i propri consumatori ecco questo in una parola si può definire conversion rate ottimization ma non è qualcosa che deve riguardare necessariamente solo gli aspetti web ma è qualcosa che deve entrare con un processo che coinvolga quanto più possibile tutti i livelli dell'organizzazione quindi la mia domanda alle aziende che oggi si occupano di lavorare sul web o si stanno facendo sul web iniziano a sperimentare questo canale è voi quanti esperimenti fate ogni anno quanti esperimenti fate alla settimana al mese perché questo è il meccanismo il processo che vi porterà a conoscere meglio i vostri consumatori e a ottenere strategie web efficaci